Sono veramente felice al pensiero che finalmente riapre la nostra casa, l'associazione Flavio Beninati che per noi tutti che abbiamo partecipato ai corsi dell'associazione è diventata una casa, un punto di raccolta, un posto dove incontrarci e vederci. I corsi di scrittura creativa ai quali ho partecipato e sono stati parecchi mi hanno formato e aiutato e diciamo fatto crescere e quindi non vedo l'ora che questa attività ricominci. Intanto per la riapertura in bocca al lupo. Grazie a tutti.